Ciao cari amici, se tra di voi ci sono le persone che sono appassionate di storie di spionaggio, se ci sono i lettori delle saghe di avventure di James Bond o di altri agenti dei servizi segreti che agiscono in giro per il mondo negli interessi dei propri padroni, dei propri paesi, affrontano cattivi e così via, sarete forse entusiasti scoprire che è scoppiata una storia di spionaggio enorme in Russia, una storia di spionaggio cari amici che ha dimostrato che i servizi segreti britannici, i servizi segreti della sua maestà, non sono più così preparati, così astuti e così professionali come una volta. Anzi, quasi questa storia ha messo in evidenza il fatto che spionaggio britannico, una volta abbastanza professionale, considerato importante, una volta anche spionaggio che vantava grandi agenti, vantava la partecipazione di persone molto istruite che hanno fatto la storia, in qualche senso, di spionaggio internazionale. Oggi è ormai in decadenza. In pratica cosa è successo, cari amici? È successo che in Russia l'FSB, voi sapete che cos'è l'FSB, per chi non lo sa brevemente spiegherò l'FSB, si chiama così il Servizio di Sicurezza di Stato di Federazione Russa. Voi sapete che in Unione Sovietica esisteva un grande servizio di sicurezza che si chiamava KGB. KGB comprendeva al proprio interno una serie di dipartimenti che erano anche molto diversi tra loro e spesso tra l'altro erano anche in una sorta di opposizione uno all'altro, si sorvegliavano a vicenda addirittura ed erano, diciamo, quei elementi importanti, indispensabili che un paese ha bisogno per garantire la propria sicurezza interna ed esterna. KGB aveva un forte servizio di sicurezza, quindi servizi di controspionaggio e poi c'erano servizi di spionaggio attivo. Ad esempio, se voi ricordate, io qualche volta ho già raccontato a voi nei video e ho raccontato in maniera molto approfondita nel mio libro che si chiama Putin, l'ultimo czar, dove io ho spiegato la storia di Vladimir Putin e io vi ho raccontato che Vladimir Putin faceva parte di servizio attivo di spionaggio estero, cioè lui era, diciamo, quello che era considerato il lavoro più difficile per agenti più preparati, perché lui doveva convincere i cittadini di altri paesi di collaborare con i servizi di spionaggio russi, ovvero lui creava i propri, come si dice sul gergo, in gergo di spionaggio russo, si dice vnestatnik. Vnestatnik arriva da due parole, vnestata vuol dire al di fuori del gruppo lavorativo, cioè sono gli agenti esterni, sono coloro che lavorano per gli interessi dell'organizzazione, cioè di KGB in questo senso, però non sono ufficialmente all'interno della KGB, loro sono persone che lavorano all'esterno, sono gli elementi più preziosi, li chiamano anche agenti clandestini, un agente del genere può portare un'enorme quantità di informazioni utili, può aiutare nella scoperta di segreti di Stato, di altri paesi, sono diciamo le risorse più preziose sul campo dell'intelligence. E Putin lavorava proprio nell'organizzazione che si occupava di ricerca di questi elementi e lui non era un semplice tra l'altro ricercatore di questi elementi tra popolazione occidentale, lui lavorava in un dipartimento che si occupava di arruolamento di elementi sovversivi, cioè è il top del top, cari amici, per farvi capire. Lui arruolava all'interno della propria organizzazione gli elementi che nell'Occidente venivano considerati gli elementi pericolosi e sovversivi, terroristi, criminali e anche agenti di altre agenzie. agenti sul campo. C'erano tantissimi strumenti per poterlo fare, spesso si usavano i ricatti, qualche volta invece si usava la motivazione ideologica, dipende da ogni preciso caso. Comunque, questa grande struttura che era la KGB, dopo il crollo dell'Unione Sovietica, è stata riformata e noi abbiamo avuto, diciamo, una separazione di questa enorme struttura su una serie di dipartimenti. L'FSB è uno dei più grandi e più diretti eredi della KGB, ma non è unico. L'FSB oggi si occupa di tutta una serie di cose legate alla sicurezza di Stato, però, ad esempio, non si occupa di intelligence estera. Per questo, oggi, c'è un dipartimento a parte che in Russia si chiama SVR. SVR spesso non viene nominato, sono sempre nell'ombra. Io qualche volta sul mio canale privato Telegram, però pubblico qualche loro resoconto, qualche loro approfondimento che dà il loro capo. SVR sta per Sluzba Vnexnirazvedici, vuol dire il servizio dell'intelligence estera. Loro anche sono eredi della KGB e collaborano insieme, strettamente, con l'FSB, solo che oggi in Russia loro sono due dipartimenti diversi. E questo è stato fatto, è stato deciso, tra l'altro, da Vladimir Putin. Per quale motivo? Perché, essendo un ex funzionario dei servizi segreti, lui sapeva com'è difficile gestire, all'interno di un dipartimento, delle correnti di lavoro talmente diversi. E per evitare che si creino, all'interno dello stesso dipartimento, delle situazioni, diciamo, indesiderati tra varie strutture, meglio separarli, tenerli separati e, nei momenti utili, farli lavorare insieme all'interno dei progetti congiunti. Così oggi lavora l'FSB, lavora SWR, lavora la GRU, GRU, come ricordate, si chiama Glavner Svetlino-Pravlenie, vuol dire il dirittorato principale dell'informazione, sono servizi segreti militari. Queste strutture, cari amici, tutti si occupano di, anche, sorviglianza del lavoro di agenti esterni dei paesi esteri sul territorio della Russia. Quando voi entrate, ad esempio, se qualcuno di voi ha mai viaggiato in Russia, quando voi entrate nell'aeroporto, ad esempio, prendiamo l'aeroporto più famoso in Russia, l'aeroporto Sheremetyevo a Mosca. Si trova più vicino al centro della città, a mezz'ora da Moscow City, in macchina. Un grande aeroporto, un aeroporto internazionale, ci sono i voli che arrivano dai paesi esteri, ci sono i voli interni, quindi un'enorme struttura. Quando voi, da cittadino straniero, state avvicinando al luogo di controllo passaporti, voi vedete che sono organizzati in tale modo che c'è una specie di cabina dentro la quale c'è una signora o un signore, di solito per questo lavoro prendono le donne. Per quale motivo? Perché all'interno del servizio di guardie di frontiera ci sono diversi agenti, gli uomini di solito fanno i lavori un po' più duri, legati con servizio anche fuori, al freddo e così via, mentre alle donne cercano di dare i posti di lavoro più caldi, più tranquilli, dove non c'è tanto pericolo e dove c'è anche bisogno di essere psicologi. Le donne sono molto più astute e intelligenti degli uomini, sono molto più brave nel far parlare le persone, nel comunicare e quindi di solito al servizio di passaporti voi trovate in Russia una donna in uniforme, sono tutti ufficiali, quelli che stanno all'interno di queste cabine, non ci sono sotto ufficiale, a partire dal tenente e in poi. Loro di solito prendono i vostri passaporti, vi fanno due domande, cosa siete venuti di fare, chi conoscete in Russia, dove pensate di fermarvi e così via e vi preparano il foglio di registrazione. Questo foglio poi vi mettono all'interno del passaporto, è una cosa molto importante perché mentre voi vi trovate in Russia non dovete perdere questo foglio, se succede qualcosa vi controllano i documenti, questa è una cosa molto importante, questo foglio dice che voi avete attraversato la frontiera, che siete stati controllati da servizi di guardie di frontiera. sempre nella stessa cabina, se voi prestate attenzione, magari se voi viaggiate, cercate di vedere, sempre all'interno della stessa cabina, però dietro un separio chiuso, con un piccolo foro così, che c'è di comunicazione tra persona con cui voi state parlando, c'è un altro spazio e lì c'è qualcuno che voi non vedete, che però c'è, ogni tanto loro due parlano, ogni tanto l'altro le chiede qualche informazione, ogni tanto il vostro passaporto, la persona che vi controlla, passa nell'altra cabina, lì questo passaporto viene controllato in maniera un po' più approfondita, ecco, in questa cabina, questa persona che voi non vedete, è un agente dei servizi segreti. Loro lavorano in stretto contatto con guardie di frontiera, quando c'è sospetto che voi siete un terrorista, un sovversivo, un agente straniero, i servizi cominciano, diciamo, a prendervi sotto controllo già dal vostro momento dell'ingresso nel paese. Questa è prassi. Per questo motivo in Russia non bisogna mai inventare le balle, non bisogna mai raccontarle delle cavolate, se siete venuti con intenzioni buoni, non avete niente da nascondere, dovete dire sempre la verità a questa gente, perché altrimenti voi non riuscirete mai a uscire fuori dalle situazioni problematiche. Non bisogna mai inventare le cavolate tipo da film di spionaggio. Assolutamente no. In Russia queste cose non funzionano, loro sono molto seri, prendono sul serio ciò che vi viene detto e se voi magari pensate di fare qualcosa di divertente, potete essere coinvolti in una situazione dalla quale sarà molto difficile di uscire. Insomma, cosa è accaduto adesso con i britannici? I britannici hanno da tempo iniziato in Russia il lavoro con gli elementi sovversivi. Di questo Russia hanno già parlato, solo che i russi avvertivano i britannici, guardate che se noi prenderemo vostri agenti infiltrati, se noi vi coglieremo diciamo con le mani nel sacco, noi manderemo via la vostra missione diplomatica, perché ovviamente se scoprirà che questa gente lavora sotto copertura diplomatica, voi siete rovinati. Per farvi capire, cari amici, la copertura diplomatica è la copertura più diffusa per gli agenti segreti. Chi si trova sotto la copertura diplomatica deve essere molto bravo, sono gli agenti estremamente bravi, perché se si tratta di un agente esterno che arriva in un paese per fare spionaggio sotto copertura della storia di, non so, un viaggiatore turistico, un uomo d'affari, una, non so, un agente di commercio oppure un funzionario di cultura, non so, sono un musicista, suono violino, in effetti tengo concerti, poi anche per ordine dei servizi segreti nei quali io effettivamente sto lavorando, sto diffondendo dei messaggi, sto facendo il lavoro operativo, prendo contatti con le persone, creo, diciamo, apro conti bancari, creo presupposti per lavoro di altri agenti, quindi, queste sono cose, sono lavori sotto copertura più facili rispetto a quelli che svolgono persone che hanno copertura di missione diplomatica, per quale motivo? Missione diplomatica sempre sotto osservazione, giorno e notte, e ogni persona che ha un accredito diplomatico sicuramente è sotto raggi X da parte del paese nel quale lavorano, per questo motivo di solito devono essere molto bravi, sono agenti più istruiti, sono storicamente persone che vengono preparate proprio per questo lavoro, e per questo motivo si dice che la spia diplomatica è la più difficile da rivelare, e se qualcuno riesce almeno una volta nella propria carriera scavare una spia all'interno della missione diplomatica viene considerato una grande vittoria e avviene abbastanza raro soprattutto ultimamente, però cari amici adesso i russi ne hanno scavati addirittura sei amici sei agenti di mi mi sei inglese dei servizi segreti inglesi sono stati recentemente scoperti e mandati via dalla Russia i russi non possono arrestare gli agenti scoperti nella missione diplomatica di solito non si fa si fa solo nel caso se sono coinvolti nelle operazioni legate al terrorismo alla preparazione di qualche attentato se loro stanno maneggiando gli esplosivi oppure documenti estremamente segreti che rappresentano l'interesse dello Stato in questi casi vengono arrestati sì ma anche lì siccome si tratta di persone con protezione diplomatica la prassi vuole che vengano rilasciati l'unica cosa che si fa nei loro confronti che a loro viene impedito per sempre l'arrivo in un paese così è successo anche adesso cosa è accaduto i russi in pratica hanno scoperto sei agenti britannici che hanno agito in Russia con pretesto di lavorare presto l'ambasciata la storia diciamo dell'ambasciata inglese ci dimostra che la copertura che loro amano più di tutto è addetto culturale l'addetto della cultura nei paesi anglosassoni è la spia cioè è James Bond della situazione loro di solito sotto copertura di azioni culturali giustificano qualsiasi cosa e in questo caso si è trattato di sei persone l'agenzia di sicurezza russa di stato l'FSB ha ricevuto recentemente i documenti da SWR da servizi di spionaggio estero che hanno confermato il coordinamento di Londra nell'escalation della situazione politico-militare internazionale e interna della Russia la principale struttura che coordina le politiche sovversive nella federazione russa si chiama direzione per l'Europa dell'Est e l'Asia centrale del ministro degli esteri britannico esiste questa struttura io tra l'altro sul mio canale privato telegram ho pubblicato pure questi documenti e anche le fotografie di questi agenti perché l'FSB veramente amici le ha fatti vergognare perché di solito quando accadono queste storie tra i paesi si cerca di non far rivelare queste informazioni perché ci sono di solito sempre gli scambi ci sono sempre gli interessi reciproci se sono stati scoperti agenti nell'ambasciata allora un paese dice all'altro va bene facciamo che questa cosa rimane tra noi non diamo questo impasto ai giornalisti poi noi vi facciamo un passo avanti a qualche vostra richiesta anche noi sappiamo che voi avete da noi gli agenti e se succede simile storia le tratteremo ugualmente insomma cercano di smussare gli angoli e fare sì che queste storie non vengono diffuse non vengono diciamo comunicate alle masse qua invece i russi sono andati come si dice a rotta di collo con diffusione delle informazioni hanno diffuso pure i documenti le foto di questi agenti e hanno diffuso anche le storie del loro lavoro in pratica i diplomatici britannici sono stati coinvolti nel più grande caso di spionaggio britannico rivelato dai russi negli ultimi tempi questo è già stato detto scritto in Russia in effetti in questi giorni di questo si parla tantissimo i russi suonano la vittoria che bello che bello li abbiamo presi e in effetti hanno ragione perché si tratta di un enorme gruppo di spie addestrate cari amici spia che ha la copertura diplomatica studia per fare questo lavoro per tutta la vita e per il paese che prepara queste persone è una risorsa inestimabile cioè una risorsa che non può essere calcolata il paese si sforza con tutte le sue possibilità per formare queste persone è come abbattimento di un bravo pilota aereo cari amici se muore un pilota il danno per il paese molto più grande di quanto semplicemente la distruzione dell'aereo che viene abbattuto e stessa cosa la perdita di un agente del genere vuol dire la fine vuol dire che la tua carriera è finita tu non potrai mai più fare nient'altro al limite se va bene ti daranno una scrivania da qualche parte farai per il resto della vita ti trascinerai fino alla pensione facendo l'analista se va bene se ti lasceranno nei servizi se no declassato devi ricostruirti la nuova vita perché sul campo operativo nessuno ti prenderà mai a lavorare da nessun'altra parte perché tu sei già agente scoperto e per questo motivo è molto importante ciò che è successo vuol dire che i russi hanno eliminato dal campo operativo sei agenti addestrati dei servizi segreti britannici amici ripeto è una storia veramente importante la prima volta in molto molto tempo succede cosa del genere dall'inizio dell'operazione militare speciale la Gran Bretagna non ha espulso i diplomatici russi per timore che venissero espolsi a loro volta i diplomatici britannici per questo motivo la missia diplomatica britannica a Mosca è rimasta così com'era e gli agenti del Mi 6 hanno iniziato a comparire all'ambasciata britannica in un numero consistente se prima si sospettava che si tratta di qualche agente ridotto due o tre persone adesso sono arrivati fino a sei persone questo è già un distaccamento operativo di spionaggio importante sei persone cari amici nel gergo professionale di controspionaggio sei persone e già quello che nell'ambiente di servizi segreti viene chiamato cellula operativa cioè quelli che possono operare da soli che non hanno bisogno di nessuno loro hanno un ordine e svolgono questo ordine e hanno tutta disponibilità illimitata di risorse quindi immaginate cosa hanno smantellato i russi cioè hanno portato via ai britannici uno dei loro meccanismi più importanti dell'intelligence in Russia attualmente comunque gli agenti dell'intelligence britannici sono infiltrati nell'ambiente culturale della federazione russa hanno persino creato alcune famiglie miste cioè hanno fatto sposare alcuni dei loro agenti con le persone di federazione russa per facilitare anche il diciamo i documenti hanno fatto finta di integrarsi bene nella società e allo stesso tempo hanno cominciato a preparare gli attivisti e i giornalisti istruiti per il lavoro sovversivo sotto falsa immagine dell'opposizione al governo russo quindi hanno lavorato preparando una vera e propria macchina di lavoro sovversivo allo stato di federazione russa e in tutto questo tra l'altro c'era una particolare agente britannica che si chiama Jessica Davenport a quanto pare lei era una delle operative più coinvolte probabilmente anche coordinatrice di questa cellula giovane lei ha fatto praticamente ha creato diversi gruppi di sovversivi russi che agivano sotto la sua guida quindi quando lei schioccava le dita questi partivano a organizzare una manifestazione a fare delle provocazioni addirittura c'era un gruppo che organizzava i sabotaggi quindi c'era già una chiara intenzione di fare dei sabotaggi contro impianti energetici sul territorio della Russia quindi cari amici dell'ambiente culturale molto in fretta questi spie di Missei hanno creato anche dei gruppi terroristici operativi cioè impressionante che lavoro hanno fatto chi sono questi diciamo agenti esterni russi coinvolti in questa attività sovversiva sono persone che appartengono a diciamo corrente di oppositori russi diversi sostenitori di ex progetto antirusso Navalny sono stati utilizzati rielaborati all'interno di questo progetto di spionaggio poi ci sono alcuni giornalisti di Nova Gazeta che ad esempio loro grande capo di questi sovversivi di Nova Gazeta è un giornalista Lipsky lui ha fatto storicamente diversi progetti di diffamazione nei confronti del governo russo quando iniziata l'operazione militare speciale ha fatto tutto per denigrare questa scelta del governo russo comunque adesso si capiscono molte cose perché comunque l'appoggio dei media è molto importante anche per lavoro sovversivo e poi ci sono ad esempio un attivista russo di cognome Mignailo lui si occupa di progetti che il senso dei quali è indebolire la società russa dall'interno utilizzando la diversità etnica ad esempio questo signore Mignailo è uno degli organizzatori di associazioni che spaccano la società russa su gruppi etnici è molto interessante se voi andate a vedere che cosa lui fa lui da una parte difende i diritti delle etnie delle minoranze che vengono in Russia delle ex repubbliche sovietiche lui ha un ufficio dove fa una consultazione gratuita legale per i rappresentanti delle diaspore diaspore in Russia ovviamente sono molto importanti sono le organizzazioni che alcune etnie alcuni popoli creano per garantire propri interessi e dall'altra parte però lui era sostenitore delle organizzazioni dei nazionalisti russi quindi stiamo di fronte a una persona che alimentava entrambi i fronti civili che poi alla fine si scontrano e crea questa cosa per l'interesse dell'inglese perché è coordinato completamente dall'inglese è fatto diciamo istruito proprio da questa agente Jessica Davenport che tra l'altro è stata fotografata insieme a lui io ho condiviso queste foto sul mio canale privato Telegram se volete andare a vedere perché questa operazione di controspionaggio i russi la conducono da parecchi mesi non è una cosa di due giorni quindi c'è un sacco di materiale interessante e poi c'è l'organizzazione LGBT c'è il capo uno dei capi dell'organizzazione LGBT russa che si chiama Agapkov lui attualmente curato da britannici da più di due anni prima loro avevano contatti con americani poi gli americani li hanno passati ai britannici i britannici in effetti hanno cominciato a utilizzare questa organizzazione in maniera molto più dinamica e violenta se vogliamo dire dal punto di vista di azioni rispetto a quello che facevano gli americani se americani usavano LGBT diciamo come uno sfondo per delle manifestazioni questi hanno cominciato di utilizzarli anche per le attività sovversive questo capo di LGBT Agapkov lui era istruito anche lui direttamente da Jessica Davenport c'è una foto con loro insieme mentre lui riceveva da lei proprio le informazioni i russi i servizi li hanno registrati loro si incontravano in un caffè in un caffè dove c'era molta gente ma i russi comunque sono riusciti a registrare diverse conversazioni e alla fine si è scoperto che questa organizzazione LGBT russa è stata utilizzata dai britannici proprio per organizzare le anche le azioni di sabotaggio all'interno di Mosca venivano usati come bassa manovolanza per diversi organizzazioni sovversive e quindi si parla cari amici di ciò che io ho detto anche tempo fa vi dicevo che guardate che tutta questa storia di LGBT finirà che questa gente appoggerà i nazisti e farà gli interessi di spionaggio occidentale in effetti è così successo appoggiano il nazismo in Ucraina e lavorano per servizi segreti occidentali altro che la libertà altro che democrazia valori umani e così via semplicemente lavorano per servizi straniere per distruggere gli interessi del proprio popolo del proprio paese e non rappresentano nessun tipo di lotta per non so gli interessi per alti valori o qualcosa del genere semplicemente l'ennesima organizzazione che viene utilizzata come organizzazione terroristica quindi cari amici questa è la notizia è molto interessante i russi hanno già espulso questi sei agenti dei servizi segreti britannici fuori dal territorio russo al diplomatico britannico ovviamente l'hanno fatto un mazzo così i russi ha anche diciamo una bella lettera aperta le ha scritto il ministero degli esteri russo e ovviamente non serve a niente se non umiliarli dal punto di vista diplomatico dal punto di vista geopolitico perché cari amici siamo di fronte a un enorme decadimento dell'Occidente l'Occidente non è più in grado di stanziare grandi fondi non è più in grado di svolgere le operazioni di intelligence come lo facevano una volta con grandi agenti infiltrati anche perché l'Occidente ha perso il sostegno di molte persone intelligenti talentuosi perché molta gente che una volta simpatizzava i valori occidentali che credevano alla democrazia adesso capisce che tutto questo semplicemente è una storiella che può funzionare con persone poco astute ma non funziona con chi ha due neuroni nel cervello che possono essere collegati e fare la scintilla quindi la gran parte di persone che una volta collaboravano volentieri con l'Occidente pensando e essere essendo sicura di fare qualcosa di giusto oggi non collaborerà mai perché sa che l'Occidente si è trasformato in un vero e proprio impero del male per questo motivo le spie occidentali possono contare solo su queste formazioni diciamo di personaggi marginati LGBT gli oppositori di Navalny arrabbiati ignoranti con visioni estremiste vicine al nazismo perché Navalny come voi ricordate è arrivato da lì da estrema destra e anche tanti i suoi sostenitori per quanto cercano di dipingersi come moderati come democratici sono comunque estremisti razzisti e hanno una formazione mentale anche che li definisce in maniera molto precisa e poi ovviamente ci sono vari giornalisti vari manipolatori questa gente anche persone che semplicemente cercano di fare la fortuna perché loro lo sanno che nell'ambiente di spionaggio si può guadagnare bei soldoni e quindi si buttano in questa situazione per cercare di migliorare la propria situazione economica ma cari amici stiamo parlando sempre di marginati perché spionaggio vero servizi segreti reali si fanno diciamo soprattutto fanno il loro lavoro soprattutto con persone come si dice in Russia ideini robotnik cioè lavoratore ideologico la persona che decide di lavorare collaborare con i servizi per motivo delle proprie idee perché crede in quello che fa questo l'occidente sta perdendo e la storia con questi sei spie britanniche prese per il collo e buttati fuori dalla Russia prese con mani in sacco è l'ennesima conferma di questa situazione amici con questo io vorrei salutarvi come sempre alla fine dei miei video vi invito di approfondire le informazioni sul mio canale privato telegram dove io condivido tutto quello che di solito viene nascosto strumentalizzato oppure censurato dal nostro mainstream occidentale dai nostri giornalisti corrotti il link per abbonamento al mio canale privato telegram si trova nella descrizione a questo video se volete seguirmi qua su youtube vi invito come sempre ad iscrivervi al mio canale commentare i miei video condividere i miei video con i vostri amici vi ringrazio per la vostra attenzione per le vostre donazioni per le vostre preziosissime opinioni per i vostri commenti tutto questo è molto importante per me per il mio lavoro su questa piattaforma online vi mando un forte abbraccio fraterno e vi voglio bene